Grazie a Luigi Manconi e grazie al pubblico presente e soprattutto grazie poi alla Camera dei Diputati nella persona del suo Presidente che ci ospita in sede così augusta per presentare un lavoro che si è intrapreso già da alcuni anni e che nei nostri auspici dovrebbe, vorrebbe quantomeno proseguire, continuare. Come già stato ricordato è un lavoro collettaneo, ovvero sia un lavoro che raccoglie la partecipazione, l'adesione di un nucleo di centri, di gruppi di studio che sono ben radicati nella realtà torinese e non solo. Mi preme ricordare soltanto i nomi perché è giusto anche rammentare chi in queste cose si è speso, ovvero sia l'Istituto di Studi Storici di Salvemini, la Fondazione Rosselli, la Fondazione Gramsci e il Centro Studi Piero Gobetti. Realtà rappresentative di Torino, del Piemonte, ma come dire per estensione anche realtà rappresentative di un ambito più ampio. La ricerca è stata poi però materialmente realizzata in accordo e in concorso con alcuni studiosi di vaglia, i veri materiali estensori del rapporto che voi potete trovare in estrema sintesi, una sintesi come dire molto molto contenuta, trattenuta, ma che potete trovare come già stato detto all'indirizzo che avete in cartellina. Dicevo, questo rapporto è stato coordinato, è stato realizzato con l'intervento di due competenti studiosi, i quali Alfredo Alietti e Dario Padovan, che sono presenti qua in sala, che stanno alla mia, dovrei dire, estrema sinistra, in buona sostanza. Abbiamo fatto un lavoro lungo, complesso, stratificato. Quello che voi vi troverete, se avrete l'interesse e la bontà di leggere la ricerca come tale, è intanto un'attività scientifica, questo mi preme sottolinearlo, nel senso che non si basa sul tradizionale sondaggio d'opinione. Questo non è. Non ci interessava dire gli italiani sono. Noi alla fin fine, forse su questo mi sovrappongo al giudizio altrui, siamo, come dire, emersi da questa full immersion con l'impressione di ciò che gli italiani non sono, in buona sostanza, o ciò di cui hanno paura. Perché al centro della ricerca non ci sono gli ebrei e i musulmani, al centro della ricerca ci sono gli immagini, i fantasmi, gli spettri, gli stereotipi, i cliché, che ruotano intorno a queste parole. E al modo in cui queste parole vengono assunte all'interno del dibattito pubblico, della discussione di senso comune, della veicolazione che viene fatta attraverso i mezzi di comunicazione e trasmissione di massa. Si pensi anche solo al web, tanto per dire che è un luogo dove, per l'appunto, i pregiudizi nelle sue forme anche più ampie può trovare nuova espansione e nuove declinazioni. A tal guisa devo solo dire pochissime parole, anche perché altri sarebbero molto più competenti di me, a partire appunto dai professori Alietti e Padovan, a spiegare tecnicamente in cosa consiste. C'è stata la somministrazione di un questionario ragionato, ragionato, ribadisco questi concetti perché non vorrei che qualcuno prendesse per aleatorie alcune affermazioni che può leggere all'interno della ricerca, su 1.528 soggetti rappresentativi come campione dell'intera popolazione italiana, della società italiana, secondo una tecnica, quella Cati, e secondo un criterio, quella della composizione della batteria di domande, scusatemi l'inciso tecnico ma occorre, che è parte di uno standard condiviso da parte dei grandi centri di ricerca internazionali. A voler essere chiaro, aggiungo un elemento in particolar modo. Ad esempio, c'è stato un lungo confronto all'interno del nostro gruppo, su tutta la vicenda, la questione relativa all'antisemitismo, ma Alietti e Padovan possono correre, se erro, anche se credo di non errare, si sono assunti una serie di parametri che l'Anti-Defamation League ha, come dire, veicolato e ha diffuso all'interno della comunità scientifica. A partire da ciò, come vi dicevo, abbiamo, anzi, soprattutto, devo dire, hanno cercato i nostri ricercatori di vedere in quale misura, evitando il sondaggio d'opinione, ci potessero essere degli elementi di simmetricità e di sovrapposizione tra sentimenti, o per meglio dire, risentimenti in via di evoluzione, che riguardano quelli che in termine tecnico si definiscono out-group, gruppi definiti come esterni, che sono interni alle società fisicamente e materialmente, ma che vengono identificati come reali, o, come potrei dire, immaginari elementi di differenziazione, soggetti contraddistinti da diversità, ebrei e musulmani. Allora, antisemitismo e, per chiarire da subito potenziali equivoci, anti-islamismo, non indicano necessariamente due elementi assolutamente convergenti e identici. Questo va detto in maniera chiara per parare qualsiasi tipo di replica, oserei dire, un po' ideologica, di cui mi giunge qualche lontano, e se posso usare l'antinomia, sordo rumore. Non stiamo invagando su ebrei e musulmani, ma su risentimenti. Questi risentimenti coprono degli spazi vuoti, come ha detto egregiamente il presidente Fini. Coprono degli spazi vuoti, tant'è vero che il titolo della ricerca è un titolo impegnativissimo. Dice, il razzismo come legame sociale nella società dell'eccezione giuridica. Poi Manconi su questo magari ci può anche, come dire, lavorare sopra e ricamare, mi si conceda, come dire, l'amichevole battuta. Come legame sociale, il razzismo lega in questo caso le persone. È un paradosso, ma lega, le fa sentire vittime di qualcosa. Chi si sente razzista, o chi non si dichiara razzista come tale, ma è razzista nei suoi giudizi, in senso lato, ritiene riempire un vuoto nella sua vita, di trovare delle responsabilità, dei colpevoli. Questi colpevoli stanno in figure spettrali, che sono tanto più potenti quanto, come dire, scarnificate, di cui non si fa esperienza concreta, ma che stanno nel nostro immaginario. Si è lavorato su questo. Ed è stato un lavoro, vi posso garantire, estremamente complesso, estremamente difficile, ed è un lavoro aperto. È un lavoro che non è arrivato a conclusione. Mi concedete anche poter fare soltanto un riferimento. Cioè, questo lavoro è stato reso possibile, grazie soprattutto a un finanziamento. Bisogna riconoscere ad ognuno il suo proprio, grazie a un finanziamento della Compagnia di San Paolo, che è una delle, si diceva anche poc'anzi, una delle fondazioni bancarie più attive su queste cose qua. Perché la domanda di fondo che ci siamo posti, che si sono posti, anche in Compagnia, che ci poniamo qua questa sera, è quanto questo legame sociale pervertito copra le rotture della coesistenza sociale che si stanno verificando nella società italiana. Fenomeni, io oserei definirli, di scissione silenziosa, di secessione silenziosa, che stanno avvenendo in una società che è sottoposta alle difficili, alle gravi tensioni e torsioni delle trasformazioni economiche che l'hanno investita quantomeno da alcuni anni e anche da una condizione che altri direbbero con padrone un po' impegnativa di dissonanza a volte cognitiva, di crisi cognitiva e così via. Vado verso la conclusione, anzi concludo, ho solo detto pochissime parole, ma come vedete la ricerca, il tema è molto appetitoso, riprendendo un paio di spunti, solo velocissimamente. Intanto un'indagine su quello che è stato definito un nuovo antisemitismo, un terreno che con i ricercatori, con Aglietti Padogan e con la comunità scientifica trovinese, non solo, vorremmo poter proseguire nell'indagine e la connessione, il nesso che il presidente Fini metteva in rilievo tra l'antisemitismo per bene, che è quell'antisionismo esasperato che traduce Israele in ebreo collettivo, in sostanza, che rende accettabile quello che altrimenti non sarebbe immediatamente accettabile, il vecchio antisemitismo. L'altro lato, che è un aspetto messo molto in rilievo già in questo primo passaggio di questa ricerca, è la coesistenza nella stessa persona di visioni e interpretazioni pregiudiziose rivolte sia nei confronti degli ebrei che degli islamici, visti come categorie astratte, ma non per questo, non meno concrete dal punto di vista delle paure. E su questo, come dire, c'è molto da lavorare, un appello anche alle forze politiche da questo punto di vista, perché quello che abbiamo riscontrato è anche il senso che alcuni italiani hanno di essere abbandonati a sé. E questo è un grosso problema, veramente molto grosso. C'è un senso di riduzione della protezione, della tutela. Lo Stato nasce per questo, non devo ricordarvelo io. Nasce nella sua autorevolezza e si costituisce come autorità perché protegge tutela. C'è un senso di abbandono a sé che è un dato dominante che viene evidentemente compensato con questi meccanismi, che sono però meccanismi forieri di disastri collettivi, come ben sappiamo. Grazie. Grazie.